39 anni di professione cuoco in un locale a Vicenza. È lui il pirata della strada che venerdì scorso a Sarego ha investito il 53enne Francesco Fortunato, scappando, lasciando l'uomo per terra, privo di vita, ad incastrarlo alla sua stessa auto, una Fiat Punto Evo e un video di una telecamera. Sono bastati tre giorni di indagini serrate, ma alla fine i carabinieri lo hanno scovato. I militari hanno visionato centinaia di filmati dei targa system, delle telecamere di videosorveglianza, del territorio di strutture private, proprio quella di un supermercato. Lungo la strada della tragedia è stata la chiave di volta. Ha dato anche un orario a questo crimine, quindi da lì siamo partiti a tamburo battente per cercare il responsabile. Telecamere che ha anche immortato quelle che erano le auto che in quell'arco orario incriminato sono passate lungo quella strada. L'attenzione dei militari si è concentrata su una Fiat Punto Evo. Peccato che sul territorio venessero svariate centinaia che i carabinieri hanno controllato una ad una, fino ad individuare quella giusta all'esterno di un bar della zona. Aveva il fanello rotto, il cofono ammaccato. Fermato il proprietario, il 39enne Cuoco, inizialmente ha cercato di negare, ma poi di fronte alle evidenze non gli è rimasto che confessare. Si è sentito diciamo in colpa, molto dispiaciuto per quanto accaduto e senza il coraggio di ammettere immediatamente quanto successo. L'uomo è stato denunciato a piede libero, dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lavoro assiduo, meticoloso, congiunto del nucleo operativo radiomobile della compagnia con la stazione di Lonigo che ha permesso proprio di arrivare in poche ore alla risoluzione del caso.